Analizzo Bakker in 30 secondi, mancino con una grande struttura, può fare sia il terzino sinistro che l'esterno ed è il classico giocatore che piace a Gasperini, esterno tutta fascia che fa sia la fase difensiva che la fase offensiva ad alta intensità è anche un buon crossatore, le difficoltà stanno proprio sul fatto di avere Gasperini, che o Gasperini ama il giocatore o lo odia in più è un giocatore che predilige solo usare il piede sinistro ed è leggermente macchinoso Che sia il nuovo Gosens, il mister lo approva, per altre analisi continuo a seguirmi